Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi proveremo a disegnare naturalmente a decorare questo bellissimo libro che vi ho fatto vedere già le scorse volte. Andiamo a vedere cosa faremo oggi e oggi andremo a fare proprio questa pagina, quindi colora dei fiori, postali e tagga un amico che si è diciamo meritato questi fiori per cui naturalmente dopo andrete a vedere in un altro video a chi ho regalato questi bellissimi fiori. Come prima cosa andiamo a disegnare il nostro fiorellino come potete vedere ho tantissimi oggetti per decorare come per esempio i washi tape ma anche naturalmente questi bellissimi trattopen. Ecco qui prendiamo il primo washi tape che naturalmente sforato nell'altra pagina ma non fa nulla. Ecco qui. Quindi prendiamo anche un altro con un'altra fantasia che richiama naturalmente sempre i fiori. qui. Dopodiché andiamo a tagliare un pezzettino e lo andiamo ad appiccicare. Ecco qui. Dopodiché lo coloriamo. Grazie a tutti. Ecco qui. Ora che abbiamo finito di decorare i nostri fiorellini facciamo una bellissima foto che andremo poi a pubblicare. Naturalmente poi andate a vedere sul profilo a chi ho regalato questi bellissimi fiori. Naturalmente adesso dovrò ritoccare un altro pochino la foto e dopodiché sarà pronta per essere inviata. Naturalmente spero tantissimo che questo piccolo e breve video vi sia piaciuto. Naturalmente se vi è piaciuto regalatemi un mi piace non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video ma soprattutto non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi e per sapere ed essere aggiornati sempre sulle nuove novità. Insomma non mi resta altro che dirvi che naturalmente ci vediamo sempre qui la prossima volta sempre qui su Do It Yourself Ispirazione. Ok? Ciao!